Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Little Rage che mi chiede di parlare del film del 2001 di Simon West, Lara Croft, Tom Ryder con Angelina Jolie, John Voight, Daniel Craig, Jan Glenn e tutto un cast più spercato per mai per un film completamente di merda, del quale se volete vi dio la trametta, la trametta è quella di lei praticamente che deve andare alla ricerca di questo triangolo che fa muovere tempo, dietro c'è anche una setta di illuminati, lei con Daniel Craig devono girare il mondo, prende pezzi di là di su di giù fino ad arrivare al finale chiaramente a Tarallucci e Bino. Eccomi la storia di Lara Croft, Tom Ryder insomma, un film che ha avuto anche un grande successo, un'Angelina Jolie perfetta nei panni, cioè viso, corpo e ma è anche perfetta nelle inespressività, pare fatta di pixel per un film che inizia male e finisce peggio, completamente sbagliato dall'inizio alla fine, senza ritmo, senza veramente nessuna voglia di andare oltre al fatto di dover vedere cose che abbiamo già visto nel gioino con tutte le tutine sulla neve, sul card, sul cosa strisce di Lara Croft che però ci importa anche una bella sega, primo perché il gioino è divertente proprio perché devi fare tentativi, devi provarci, provi sempre di più e qui invece non c'è da provarci, qui te lo spiattellano nel muso questo troiaio ed è veramente scritto col culo, ci sono dei dialoghi che sono veramente deleteri, uno dei film più brutti che mi si è mai capitato di vedere un cesso totale, uno di quei film che non so bene perché abbiano funzionato e hanno portato anche al 2 la cula della vita che è ancora più brutto forse, ancora più serioso perché qui, diciamo così, la parte ironica che vorrebbe esserci non fa ridere, la parte seriosa è drammaticamente inutile e tutta la storia è talmente confusa, è scritta col culo che a un certo punto non ci si capisce più una segretta, ne frega un cazzo, trova i pezzi, fa ve le tipare con un finale delirante, o lei parla il suo babbo, pare Obi-Wan che novi, non si può veramente guardare un film completamente sbagliato, tutto da rifare e che hanno anche rifatto poi qualche anno fa, era brutto anche velo ma questo vi porca miseria è veramente, ma il male, il male assoluto, sono brutti gli effetti speciali non c'è ritmo, non c'è epica, non c'è niente, e la sceneggiatura di Massa e Tenzin, ma che cazzo l'hanno presa, veramente l'hanno tirata fuori dopo due giorni di bagordi perché veramente non torna niente con quell'inizio piagnone quasi subito, lei ripensa a Subabbo Dupal che gli lascia astrologi e il ticchettivo e la sveglia e ne trova ve l'altro va a chiamare con l'amico, l'amico del babbo e quel biscugino, insomma, siamo di fronte a un Indiana Jones dei poveri fatto di merda, croiaio totale, siamo di fronte a un film che non funziona mai tutti gli attori nebetiti, un Daniel Craig che sembra che sia capitato lì per caso, e Angelina Jolie ripeto che non ha espressione come arriva in primo piano, sgrana gli occhioni e tira fuori nella prazza, non fa altro, niente espressioni, dialoghi da adattorte per un film che non fa paura, non c'è attenzione, non fa avventura, nel senso che non riesci mai a essere caricato di quella adrenalina che dovrebbe essere, gli effetti sono quel poca roba, e ripeto, gli attori imbambolati per una regia assolutamente inesistente che rende il tutto un troiaio, qui siamo di fronte veramente a una delle cose più brutte, a una delle cose più inutili a una delle cose più spazzaturose che mi siano mai capitato di vedere, puzza a distanza questo film, è vero film di merda che porca miseria, quando uno l'ha guardato una volta alla seconda, come ho dovuto fare io, praticamente ti senti un attimino circolare qualcosa nelle vene che non è forse sangue, ti stai avvenerando la visione di qualcosa di inconcepibilmente brutto il link è qua sotto per chi mangia la merda, e poi qui sotto c'è anche il super grazie, il puzzante per donare direttamente su youtube poi Patreon, se volete avere la vostra mini recensione, anche un euro semplicemente per sostenermi poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro d'Italia e questo Lara Croft Tomb Raider, ovviamente non ho parlato anche troppo, è la spazzatura della spazzatura il classico esempio che se da un videogioco non ci tiri fuori qualcosa di diverso in realtà rimane solo un videogioco appunto senza poterci giocare, quindi due palle che non finiscano mai Grazie 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 Grazie